Edoardo Limberti e Gioele De Leonardo, due giocatori che quest'anno hanno contribuito per gran parte alla promozione, al grande salto in Serie C della Valentina Sbottegone. Due ragazzi che insieme ne hanno passate tante, ma ragazzi raccontateci come parte il vostro percorso cestistico insieme. Inizio io, allora, diciamo è partito, è a Liana, Serie D, abbiamo vinto un campionato, anche se Gioele ha fatto una partita, l'ultimo è il campionato che avevamo vinto, però era già aggregato alla prima squadra quindi conoscevamo già bene, nonostante fosse un ragazzetto e anche io ero un po' più giovane. Poi abbiamo continuato sempre a Liana, abbiamo vinto un altro campionato, dalla C2 alla C1 e ora finalmente abbiamo vinto il terzo, diciamo due e mezzo, dai due e mezzo insieme, grazie a questo. Quindi non è il vostro primo campionato vinto insieme, ma volete raccontarci qualcosa in più sulle vecchie vittorie? Sulle vecchie vittorie c'è da dire, eravamo un gruppo molto affiatato, cresciuto insieme negli anni con l'Inve, con Zacca e con altri ragazzi che ancora siamo in contatto, avevamo creato una bella amalgama e eravamo un gruppo così unito che era difficile giocare contro di noi, quindi eravamo una squadra a tutti gli effetti. Passano gli anni, ma voi due siete ancora insieme, questa volta con la casacca giallonera e come è stato tornare a vincere insieme dopo qualche anno di separazione, possiamo definirla così? Allora, è stato sicuramente bellissimo, una cosa anche evoluta, diciamo, perché quando sono andato via da Agliano la prima cosa che ho fatto è sentire Gioenne, sentire dove era, cosa si sarebbe fatta insieme, che quello ero sicuro di aver venuto insieme. E dopo due anni siamo riusciti a portare anche Emanuele Zaccariello, un altro tassello fondamentale sia per questo campionato che come amicizia per noi, e siamo stati ripagati più che bene perché con una grande vittoria di gruppo, perché tutta la squadra ha contribuito con questa vittoria e un contempo di così non si può essere. Il campionato è abbastanza difficile, nonostante la nostra squadra sia una delle più lunghe siamo sempre stati avanti per tutto il campionato, quindi questa è ancora più la dimostrazione del fatto che il gruppo anche quest'anno si è creato, è il merito di tutti e poi che dire, auguri a Zacca! Auguri a Zacca! Auguri a Zacca!